Per la stagione 2022-2023 Maver, tramite il marchio Reactor Bite, presenta una nuova linea di Boiless dedicata al Car Fishing. Sono sette differenti aromatizzazioni, tutte nel diametro 20 mm. Vengono presentate in sacchetti da 4 kg e sono ideali sia per la pasturazione che per l'innesco. Le aromatizzazioni sono varie che coprono tutte le situazioni, quindi abbiamo sia delle aromatizzazioni a base dolce, sia a base speziata e a base pesce. Inoltre abbiamo introdotto un nuovo gusto, una nuova aromatizzazione, che è il Crab Black Pepper, che veramente ci sta dando tante soddisfazioni. Sul retro del sacchetto indichiamo la composizione, quindi gli ingredienti per ogni singola Boiless e i componenti analitici che la contraddistinguono. Le sette aromatizzazioni quindi ci permettono di scegliere quella più ideale al nostro utilizzo, al nostro ambiente di pesca.